Siamo arrivati in semifinale della Coppa delle Coppe, battuta solo dal Barcellona che poi non ha vinto, Costadino nel frattempo ha realizzato la seconda rete, quindi è una squadra pericolosa, soprattutto in una partita di casalinga loro Ora vediamo ancora l'azione di Costadino, è una bellissima conclusione questa Questo è un po' portale La rete, la rete del Porto, Costadinova, competenza del Bvlgaro, stupendo a scuola da Porto Anicci Costadinova, che a substituir a Giorgio Couto nella seconda parte, colocou di nuovo la sua equipa La posizione di vencedora Stavano decorrides 7 minuti e os portisti non derano al avversario la possibilità di responder 4 minuti dopo, Giorgio Couto Anicci E qui, excelente lance per Costadinova e, ahi sta il primo gol della partita 28 minuti e è un pollo 15 di Tosè, dà un foglio nuovo al attacco portista Dopo di una excelente iniciativa individual che culminò con una bola oposta Costadinova teve apenas che empurrar a bola per l'interior della baliza inglesa Pudemos rever, l'excelente lavoro individual di Tosè che permitiu al futebol club di Porto riduzire la desvantagem per 2-1 con golo di Costadinova Rappido per il contraattacco Il cruzamento è di João Pinto e il capisamento di grande qualità di tecnica è di Costadinova e, assim, ganhou il diritto di perdonare per il mau gioco che oggi effettuò Il spottino devia... Il gioco è un gioco per 6 minuti dopo il tempo e poi c'era una attività davanti Il gioco è arrivato per Costadinova per fare 2-1 per Porto 6 minuti dopo il gioco è di 5 minuti dopo ma bisognava di 3-0 per filmare perところ tiene un gioco Bronzeatura che intervieno nel gioco possono poi assistire questo gioco. Costa Adinove isolato può essere il secondo e ora la scuola da scuola per il porto Aos 8 Do Boa Vista, più efficace, Costa Adinove abriu a seguire a contagem. Melhor che gervido no gioco aereo, desviò a bola per al posto mai distante. Il gioco in porto ha conseguito anuare a desvantagem a 8 minuti e vai lançar Timofti, o cruzamento é tenso e ao segundo posto, Costa Adinove sol, vai marcar com a concha Aí está. Domingos Semedo e Costa Adinove virando para o gol inaugurando o marcador 1-0 dando dispersão ao maior poder ofensivo da equipa campeã nacional e e aqui não há nenhum fora de jogo e Costa Adinove vai fazer o 2-0 para o Poco Porto aos 12 minutos do segundo tempo aproveitando bem uma desconcentração da defesa minhota ficou à espera primeiro golo do futebol com o Porto de novo um trabalho do búlgaro pela direita desta vez progredindo para o meio do terreno por forma a procurar o melhor local para o remato do Poco de novo com um minuto para o fim de novo e o gol e o gol segundo gol do futebol com o Porto o contra-ataque a dar resultado contra o ataque continuado do Werder Bremen Emil Kostadinov para fazer o 2-0 para fazer o 2-0 um começo impressionante do Porto o atletas no segundo tempo e o 8 minutos empata para o Deportivo os atléticos entende que houve fora de jogo neste gol do jogador búlgaro o gol 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 è stato un giocato Ma partita è Cistaroth, ti ci vende, Posta di nobi, 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 Posta di nobi. e tutti i Bulgariani sono giocati completamente da sorpresa non lo so, non lo so, se si resta lo stesso, ma c'è ancora una chance non c'è un'altra parte, c'è una chance per l'equalizzazione di Bulgaria c'è un gol, ma il gioco è giusto e i Bulgariani hanno equalizzato proprio a la destra nel Meisterschaftsqualifikationsspiel gegen Bulgarien in Sofia liegt die Schweiz nach 25 Minuten mit 0-2 im Rückstand il gioco è gioco, il gioco della Bulgaria Penev ha dato all'indietro a Kostadinov Kostadinov lanciato, Kostadinov, Hotiga kann ihn nicht halten und Filip Walker zum zweiten Mal bezwungen drei Mal hat er nicht reussiert in der ersten Halbzeit aber jetzt, drei Minuten nach Wiederbeginn das 2-0 für Bulgarien, Emil Kostadinov zum 2-0 Kostadinov tête de Kostadinov, bien frappé, tendu et l'équipe de France n'aura venu que quelques secondes, quelques minutes et oui mais c'est un corner idiot qu'on a concédé là et voilà ce qui se passe frappe de Palakoff déviée au premier poteau par Kostadinov il y a bien Reynald Petros au poteau mais il est trop court 1-1 entre la Bulgarie et la France, 36 minutes un peu moins car il y a eu des... Chinola concentré c'est Kremenliyev qui va récupérer ce ballon on est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire Penev loin devant attention attention Kostadinov en but... Oh la la ! oh la 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 la... c'est la fin à 10 secondes... a 10 secondes de la fin Kostadinov qui m'a... aïe 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 quelle catastrophe la cance 10 secondi di la fine 10 secondi c'è il but di Kostalinov c'è la misa mort 10 secondi non non pas en jouet e un ballon là basse su le coufran alors qu'on avait un bon ballon a guarder dans le coin on l'a perdu Kostalinov qui se rende dans les 16 mètres e sous la transversale but imparable de Kostalinov c'è la fin pour l'équipe de France qui n'ira pas aux Etats-Unis l'été prochain ça c'est une énorme décepcion surtout la manière contre l'ancien champion Un minuto dopo una scuola Brinktine Bundesliga Spiella di Bulgariani Con 3-2 in front Stoiccov 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 e di nuovo è Emil Kostadinov solo due minuti dopo che il fatto di Strakos Kostadinov di nuovo è in grado suoi sottobornici è giusto che in futbolna giura n'è classifica e per gli assistenti perché Dancio Lecchkov consente di più stesso con gol maestora Ovacini Ivanov Lecchkov Iankov Svega è un'esplorio e è un'esplorio che si è un'esplorio che si è un'esplorio Kostadinov in un'esplorio con alcuni scambi che si è un'esplorio la regione di Bulgaria che si è prescita per la regione che si è un'esplorio la regione di Strakos è un'esplorio che si è un'esplorio qui si è un'esplorio maestora e queste aff consistono parla ài il primo è Emil Kostadinov è rimasto nascita e con il tipo di stagione con l'esercizio in quanto riguarda l'esercizio è molto necessita la contraattata molto necessita che ha costruito l'esercizio l'esercizio della squadra ma il risultato è stato un buon forte è stato un ruolo l'esercizio l'esercizio come si è arrivato guarda l'esercizio e invece svegliamo su ball e inno l'esercizio 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 l'esercizio